Ad una prima lettura il brano evangelico che ascoltiamo oggi può incuterci un senso di paura nei confronti di ciò che ci può succedere come discepoli di Gesù, ma in realtà è un invito a rimanere saldi e ad avere la speranza di poter vivere da veri cristiani la nostra vita. Gesù ci promette un legame forte con Lui, non dipende tutto da noi, Gesù non ci lascia soli, è Lui che ci dona la parola e la sapienza per poter testimoniare la verità. Questo ci spiega che è possibile annunciare il regno di Dio solo se siamo noi per primi legati ad esso. Prima di poter annunciare agli altri la bellezza di aver incontrato Gesù dobbiamo incontrarlo noi stessi e quindi fare esperienza di quell'amore così grande che Dio dona a tutti noi. Solo se sappiamo allora accogliere Gesù come fine ultimo della nostra vita, riusciamo poi a metterlo al centro di tutta la nostra esistenza, anche molto di più dei nostri familiari e amici, perché è Dio che ci ha salvati. Questo brano carissimi non vuole dirci che è meglio vivere la solitudine lasciando tutti, ma di mettere al centro di tutte le nostre relazioni il fine che è Cristo. Solo in questo modo, come ci dice nel versetto 18, non ci verrà tolto neanche un capello del nostro capo. Indica una protezione particolare che Dio rivolge ai Suoi figli e quindi a noi. Questa è l'esperienza che tutti noi siamo chiamati a vivere e cioè sperimentare la Sua protezione, perché tutti noi siamo un dono unico e agli occhi di Dio siamo un tesoro prezioso. Se riusciamo ad accogliere questa verità sapremmo anche testimoniarla agli altri. Buona e santa giornata a tutti!